Un buongiorno e un buon fine settimana, oggi 11 dicembre 2021, stiamo avanzando verso la fine di questo mese, di questo anno e anche oggi vogliamo adorare il Signore, vogliamo benedirlo, vogliamo lodarlo, vogliamo ringraziarlo per la vita che ci ha dato e vogliamo dirgli, Signore parlaci, anche oggi, perché io ho bisogno di sentire la Tua voce, perché io ho bisogno di sentire la Tua parola, perché ho bisogno della Tua presenza, andiamo al Signore con questo sentimento e apriamo i nostri cuori per ricevere il messaggio che Lui ha preparato per ognuno di noi, dice così la scrittura di oggi Da questo abbiamo conosciuto l'amore, Egli, Gesù, ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli Testo che puoi trovare nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, il versetto 16 Il titolo di questa meditazione biblica è questo, il calore comunicativo della vita Gli autori del calendario cristiano Il Buon Seme consigliano una lettura Vangelo di Luca, capitolo 10, dal versetto 25 al versetto 37 Giusto per capire il contesto di cui ora andremo a parlare in questa meditazione Sundar Singh, un cristiano indiano noto per la sua devozione, attraversa un passo di montagna nel Nepal in compagnia di un tibetano La neve cadeva copiosa e i due uomini erano intirizziti dal freddo e al limite delle proprie forze E mentre che camminavano all'improvviso uno di loro inciampò su un corpo semisepolto dalla neve Era un viaggiatore che era caduto per sfinimento Il suo cuore batteva, ma molto, molto debolmente Proviamo a salvarlo, propose Sundar Non ci penso proprio, disse l'altro Saremo già fortunati se riusciremo a cavarcela noi due E proseguì il suo cammino senza soccorrere quella persona Sundar riuscì a caricarsi il moribondo sulle spalle E con l'aiuto di Dio, con il soccorso di Dio Continuò faticosamente, è vero il suo cammino, ma continuò Lo sforzo che doveva sopportare lo riscaldò E allo stesso tempo riscaldò anche l'uomo che portava sulle spalle Il quale un pochettino alla volta riprese conoscenza Più avanti del cammino trovarono, semisepolto dalla neve, il corpo Pensa di chi? Del compagno di Sundar che si era rifiutato di prestare soccorso E aveva voluto proseguire da solo Poco dopo giunsero al rifugio del passo Sani e salvi, grazie a Dio Questa storia assomiglia un po' a quella del buon samaritano Raccontata dal Signore Gesù nei Vangeli È una storia che conosciamo un po' tutti Sono passate tre personaggi e nessuno di questi quali ha aiutato questo buon samaritano Mentre il buon samaritano ha prestato soccorso Questa storia descrive lo stato disperato di ogni uomo Lontano da Dio a causa dei propri peccati E incapace di salvare se stesso Ma Gesù, il figlio di Dio, ha avuto pietà di noi Ed è sceso dal cielo È morto sulla croce ed è risuscitato Ci ha comunicato la sua vita E si è fatto carico di noi per condurci fino al cielo Se credi in Lui Il Padre e la casa del Padre ti accoglierà per l'eternità Te lo ripeto Se credi in Lui Il Padre e la casa del Padre ti accoglierà per l'eternità A te la scelta Dio ti benedica Pace del Signore